Mister Barba dopo il pareggio per 3 a 3 dell'Urbetepre contro il Novator 3 teste Mister, prima di parlare della partita un commento su un match che è stato giocato con grande intensità dal primo all'ultimo minuto da entrambe le squadre è un bello spot in generale per la categoria? Sì, penso che questa rimarrà una delle partite più intense del campionato e comunque è giocata da due squadre che hanno dato un ritmo indiavolato dal primo all'ultimo secondo poi vari episodi della gara hanno fatto sì che la stessa rimaneva sempre in equilibrio quindi c'è sempre stato anche i rivieni da ambo le parti alla fine sì, divertente per chi dà vista Certo, e soffermandosi sui primi 20 minuti dove avete subito i due gol cosa è mancato rispetto alle altre uscite? Ha mancato niente, perché se vai a analizzare come sei preso i due gol con due palle da 70-80 metri forse dietro la linea avremmo potuto fare sicuramente meglio Nella lettura? Sì, perché avevamo tutto il tempo non sono state due palle costruite con azioni manovrate quindi dici hai sbagliato l'approccio quando ti arriva a tre metri alla porta e prendi gol da 70 metri o a parte del cielo Nella ripresa ha cambiato sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista di uomini ecco una parola di merito anche per i subentrati che comunque hanno dato una scossa importante alla partita La squadra stava in campo in partita anche nel primo tempo però ovviamente devi gestire quasi tutta la gara in dieci perché l'espulsione è stata quella che è stata penso che era il ventissimo, forse anche prima il suo rigore sul 2-1 quindi hai gestito tutta, gran parte della gara in dieci quindi non potevi rimanere allo stesso modo ovviamente c'hai i ragazzi, i giocatori validi anche fuori quindi non c'è stanno i titolari né riserve in quel momento c'era bisogno di gamba, differente sono stati bravi sia che è uscito che ha fatto benissimo e che è entrato Alla fine un punto guadagnato e due persi? Beh, credo che per gli episodi ripresa così l'amaro ti rimane perché non avremmo subito il terzo ci siamo mangiati un paio però clamorosi poi in dieci insomma poteva sembrare una grande impresa però il campo ha detto 3-3 va bene così è molto potente